sono Emanuele di Biase vegan master chef consulente dell'ambito vegan food oggi vi presento la mia ricetta a luna nera con ingredienti vegan il nostro corso gratuito www.mesmerism.info ho scelto scrocchiarella perché è semplicemente meravigliosa versatele nei suoi utilizzi e perfetta per realizzare una linea di pizza vegan di altissima qualità ed ecco a voi la mia scroccherella luna nera con ingredienti vegan grazie 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 grazie